Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di oggi, domenica 6 ottobre. Allora, le notizie della giornata non sono enormi. La cosa forse più interessante riguarda Battisti, perché Battisti mi fa schifo ed è uno dei personaggi più orribili che uno possa immaginare, perché c'è, passatemi in termine, la banalità del male, che è quella dei capo nazisti raccontati di Anne Arendt, e c'è invece la volgarità del male. Non che il male abbia un senso diverso se è stato fatto in maniera banale o volgare, non ha nessun senso, ma quello di Battisti è la volgarità del male, cioè della merda umana che uccide delle persone senza pietà, le uccide fingendosi un terrorista e scappa dopo che le sue... Ieri c'è proprio stato il simbolo, quel brindisi che ha fatto con una birra all'aeroporto alla faccia delle vittime di chi ha ucciso e alla faccia delle autorità italiane che lo vogliono. Un'ultima considerazione, oggi c'è un'intervista di Violante che da magistrato, da ex magistrato, anche se comunista, di cui magistrati di un tempo dice non ha senso il fatto che Battisti non sconti la pena in Italia, ma un'altra cosa che ci deve far riflettere su Battisti è il consenso che Battisti ha avuto in certa intelligenza mondiale e questo dà forse l'idea di come qualcuno veramente non ha dignità di essere considerato non un intellettuale, ma anche un appartenente della nostra collettività. Battisti è uno che l'ha ammazzato a sangue e freddo delle persone, Poliziotti e non solo Poliziotti. È una cosa disgustosa pensare che Philippe Soller, che come si chiama Pennac, quello di Messia e Malusson, siano battuti per Battisti. Per me è proprio un discrimine, non esco una persona che si batte con Battisti, è una cosa disgustosa. In un piano molto diverso e molto più ridicolmente italiano, anche se l'attore è un marocchino nato a Casablanca e emigrato in Italia a sei anni, è la storia di Chauquie, che è un parlamentare italiano che non paga i contributi per la sua assistente parlamentare. Vedete, questo lo fanno molti parlamentari italiani, che non è giusto ovviamente, ma insomma sono quelle piccole furbate che gli evasori fanno. Ma lì nel caso di Chauquie c'è la solita doppia morale, la troviamo oggi sulla Verità, lo troviamo oggi in prima pagina sul giornale. La doppia morale è, insomma, se tu sei per lo Iusori, per la sinistra, contro l'evasione fiscale, contro il mondo fatto delle disuguaglianze, la tua assistente parlamentare gli paghi i contributi, non è che fai il furbetto e non li paghi per due anni, gli deve dare 15 mila Euro di contributi all'Inps, peraltro c'è una causa imbastita al Tribunale di Latina per i contributi non pagati nei confronti di questa ragazza. Vedete, io non mi scandalizzo su questo, ma mi scandalizzo sul fatto della doppia moralità sempre, cioè se il parlamentare di sinistra può permettersi di pontificare contro gli evasori fiscali e poi nel momento stesso in cui pontifica, nei confronti dell'unica persona che è assunta, pagata da noi contribuenti, perché questa è la storia, perché siamo noi che paghiamo gli assistenti parlamentari con i nostri soldi ai parlamentari e non ci paga i contributi, insomma io la trovo una cosa abbastanza indignitosa. Rajoy parla oggi in un'intervista che viene pubblicata da Repubblica e fatta da tre giornali spagnoli, un'intervista in cui dice guardate che la questione in Catalogna è una minaccia all'Europa, non si dialoga minimamente, dice Rajoy, sull'unità della Spagna perché si parla di tutto ma di questo non possiamo parlare. Gianluigi Paragone invece sul Libero prende una piega che a me non piace per niente dal punto di vista ovviamente editoriale, dal punto di vista culturale, poi dopo ovviamente è la posizione di Paragone che conosco bene, le banche scappano, la finanza abbandona l'indipendenza della Catalogna, no la finanza non è che abbandona l'indipendenza della Catalogna, abbandona una stronzata dal punto di vista economico perché tutti quanti i banchieri sanno perfettamente che avere la sede legale in Catalogna, se la Catalogna dovesse uscire dalla Spagna e quindi per i trattati europei, la legge che gli altri rispettano dovesse abbandonare l'Europa avrebbero un pochino di problemi e quindi i banchieri fanno gli interessi dei loro azionisti, dei loro stessi e dei loro correntisti, è abbastanza banale quello che fanno le banche, non è la grande finanza che è contro l'indipendentismo della Catalogna. Poi devo dirvi la verità, l'altro tema di giornata è la politica, il primo giornale che apro, che non è soltanto il mio giornale, dove peraltro oggi ho fatto anche un fondo, non è il mio giornale, ma il Corriere della Sera per vedere cosa dice il Corriere della Sera oggi è Avanti anche senza Pisapia. Io dico ma che cacchio di titolo è? Avanti anche senza Pisapia. Pensate che qualcuno possa avere una volontà di acquisto del Corriere della Sera quando si becca una prima pagina in cui c'è scritto Avanti anche senza Pia. Chi va Avanti anche senza Pisapia? E che vuol dire andare Avanti senza Pisapia? Poi dopo in questo involuto titolo di prima pagina si riesce a capire che il partitino MDP che vale il 3-4% e che è fatto da Speranza, pensate un po' voi, io voglio vedere chi lo riconosce, D'Alema, Bersani, andrà Avanti anche senza Pisapia che si era giunto all'MDP nel contestare ogni alleanza Correnzi. Cioè un casino tale per cui questo merita forse 15 righe a pagina 32 di un quotidiano popolare come il Daily Mail che si occupa di vendere le copie e non di parlare al palazzo. Avanti anche senza Pisapia, un titolo incredibile. Poi scopro in una pagina intera un'intervista a Speranza che è il capogruppo di MDP che è un partitino che vale la metà, un quarto del Partito Democratico che vale più o meno come la Meloni e noi stiamo qui appesi per le dichiarazioni di Speranza e le dichiarazioni di Speranza sono mai con Renzi. Si capisce che è una questione tutta personale, quella che c'è a sinistra tra Renzi, ci sta pure perché Renzi è uno dei personaggi più arroganti che esistono sulla faccia della terra, ma la forza della politica, devo dire la verità, è quella di andare oltre alle arroganze personali e a pensare forse come gestire questo Paese. Penso, poi dopo, se questo è quello che loro vogliono fare, si dividessero. Io sono ben contento che la sinistra sia destinata a perdere per sempre. Interessante invece il pezzo di Dalimonte oggi sulle 24 ore e quando Dalimonte parla di sistemi elettorali è una cosa molto interessante. Dalimonte provò a fare il sistema elettorale con Renzi, non ci riuscì, però è un grande divulgatore dei sistemi elettorali. Dice che anche in Sicilia, dove si elegge il presidente della regione il 5 novembre e viene eletto sulla base di chi prende un voto più degli altri, probabilmente vincerà il centrodestra con Musumeci, è difficile che vinca i cancellieri del 5 Stelle e nonostante un premio del 10% che verrà dato alle coalizioni vincenti, anche la Sicilia sarà ingovernabile perché ci sono un sistema tripartito, Movimento 5 Stelle, PD, Forza Italia, centrodestra, sarà difficile che il presidente eletto, che lì si elegge sicuramente, avrà la maggioranza in consiglio regionale per poter governare, maggioranza che è fatta da 36 consiglieri regionali. Probabilmente il centrodestra potrebbe anche vincere, ma 36 sono tanti, ma non lo so. Io su questo ho dei dubbi perché se è vero che il centrodestra è destinato a prendere il 40%, come dicono gli ottimisti del centrodestra, probabilmente è smentita la profezia di Dalimonte. Ma la cosa interessante di Dalimonte è che dice che se il sistema regionale siciliano già è incerto, con questa nuova legge approvata in commissione ieri, state ben certi che la governabilità del paese in Italia sarà pari a zero. Cioè lui dice già è incerto quando eleggi il presidente della regione in maniera diretta, perché chiunque prenda un voto in più in Sicilia diventa presidente della regione. In Italia, nel sistema elettorale Rosatellum, che è stato cambiato recentemente, non c'è nessuna elezione diretta, è una grandissima farsa proporzionale maggioritaria, nessuno saprà chi vince la sera stessa e quindi il governo verrà fatto molto probabilmente il governo presidente. Interessante insomma per chi è appassionato ai sistemi elettorali, io vi devo confessare la mia debolezza, sono più appassionato ai sistemi elettorali che alle dichiarazioni di speranza presidente della MDP. Direi che per oggi è tutto, non c'era moltissimo sui giornali, prendetevi un po' di tempo per leggervi, non so, un bel libro, oggi ho tricensito quello sull'individualismo statalista di Gian Cristiano Desiderio, ma insomma c'è tanto da fare oggi perché i giornali, poca roba, anche Raccoi, sì forse l'intervista di Raccoi se volete, è l'unica cosa, diciamo un po' di respiro oggi, ma che dice le quattro banalità che deve dire un presidente che sta sotto scacco. Ciao!